Oggi faremo una sfida! Salato, dolce e acido! Abbiamo tre piatti, la volta che noi ci siamo cosiddetti, ma sappiamo che uno è salato, uno è acido e uno è dolce! Ecco, guardiamo! Scegliendo una carta tra le tre, sapremo quale piatto scegliere dopo! Questa sarà una sfida molto bella! E sono sicuro che vincerà Stas Papà e il perdente riceverà uno sciapalà! Avete capito ragazzi? Non è il sciapalà! Odio il sciapalà! Ogni round, ok! Ecco perché dobbiamo mangiare tutto! Spero di essere fortunata, amici! Ok ragazzi, cominciamo? Forza, scegliete la carta che volete! Opa! Ragazzi, vediamo cosa ha Maria! Dolce! Io ho il salato, amici! Sono sfortunata, ho l'aspro! Dovrete vedere le tue facce adesso! Il fatto è che non sappiamo cosa c'è dentro! Può essere aspro, ma può essere una gelatina e ti piacerà! E dolce, potrebbe essere disgustoso! Sì, qui ci possiamo mangiare il noce nel tasso del vattro e vedrò dentro! Perché è schifo! Quindi non abbiamo ancora idea di cosa ci sia dentro, giusto? Sì! Apriamo i piatti che sono davanti a noi! Vediamo cosa c'è dentro! Oh! Cetriolini! Sapete che non li abbia presi io! Che tipo di cetriolini! Aspiri! Ecco perché Chris li prende! Che schifo! Cosa c'è di peggio? Apriamo questo! Oh! Dolce! Il formaggio! Sì! Amici, chissà cosa ho io lì! Diamo un'occhiata! Il formaggio? Ok, facile! E questo va a me! Sono benziato! Delizioso, vero Maria? Sei geloso! Sei fortunata! E ragazzi, io mangio questo formaggio! Lo aprirò così! Lo apro e lo mangio! E' il sapore della mia infanzia! Non credo che ci fosse un formaggio con delle bambine! Ok! E io ho ricevuto il prodotto più disgustoso! Hai schizzato! Ehi! Ah, dai! Non sputarlo! Allora, mangiala tutta! Mangiala tutta! Altrimenti perdi! No, non voglio ciappallarci! Provo, dai! Buono, vero? Oh, terribile! Perché è terribile? Mi stai prendendo in giro! Adoro i cetriolini! Cosa c'è di peggio, ragazzi? Non provateci mai! No, non ce la faccio! Mi sono i cetrioli nella sua bocca! Che schifo! Che schifo! Io ho mangiato tutto! Maria sta ancora mangiando! E Chris? Prende lo... Ciappallarci! No, no, no! Subito! Amici, è solo il primo round! Io prendo subito il ciapallarci! Non ci credo! Ma questi taciti erano davvero disgustosi! Chris, sei pronta? Oh, no, no! Preparati! Uno! Ah, ma le mie orecchie fanno davvero male! Non mi fa male l'orecchio! Io lo sento con il suo nome, Dio! Amici, iniziamo il secondo round! Il prossimo round, gente! Ragazzi, che ne dite? Vediamo prima cosa c'è dentro? O dovremmo scegliere prima le carte? Sì, ragazzi, provateci a scoprire cosa c'è dentro! Andiamo! Nemmeno io! Allora scegliamo, andiamo! Cosa c'è lì? Andiamo! No, perché? Amici, c'è qualcosa! Ma so come se non si vuole, ragazzi! Ragazzi, io ottengo qualcosa di dolce! Io ho ottenuto qualcosa di salato, ma è un 50-50! Non sai se sarà buono o no! Nessuno lo sa! Ed è ora di scoprirlo! Ragazzi, apriamolo tutti insieme, dai! Sono d'accordo! Andiamo! Uno, due, tre! Limone! La pizza! Ti piacciono i limoni, Maria? E devo mangiare adesso! Sì, devi mangiarli! Cioè, bere il succo e poi mangiarli, altrimenti non vale! Hai capito? Se no... E puoi sciapalare? Sì, sciapalare! È buono, è vero? Prendi un po' di succo! Prendi un po' di succo, dai! Ragazzi! Perché sageri così tanto, Maria? Penso che sia facile! È il mondo più grande del pianeta! Ragazzi, è così facile! Non so perché Maria lo faccia! Cos'era? È stato un piacere! Cos'era questo? E ora tu! Vai, forza! Vabbè, ma almeno avrai la sciapalà! È il mio turno di mangiare la pizza più deliziosa! È deliziosa, amici! Nutella, amici! Adoro la Nutella! Sono golosa di stas... Anche se anche la mia pizza non è male! Sapete... Sei pazza, Maria? Volevo solo farla più buona! Lasciami stare, ti dico! Lasciami stare! Lasciami stare! Mi dispiace per lui, amici! Stas, penso che sia molto buona con il limone! Amici, era buona con il limone! Perché anche se è deliziosa! Ma è così dolce! Ma è così dolce! Così, così dolce! Sì! Sì, si prendono le camere! Sì! 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 Noi, la cacca! Sì! Sì, come un mariolo! Preferisco prendere lo sciapalà, amici! Ma non lo mangerò! Meglio lo sciapalà! Adesso vi faccio vedere un bel sciapalà! Dai, Maria! Sì, dai, su! Sempre pronto! Sì, pronto! Oh my God! Amici, che botta! Ma guarda che neanche le mie orecchie sopportano quel suono! Iniziamo il prossimo round! Andiamo! Terzo round, gente! Diamo prima un'occhiata all'interno? Sì, ma ci ho fatto! Siete pronti? Sì! Uno, due, tre! Accetto! No, il pancake al cioccolato, amici! Questo giro con il cosmo del pancake! Quindi questa volta abbiamo meno possibilità! Ragazzi, vogliamo scegliere? Forte, ragazzi, forzi! Siete pronti? Sì! Prendila, prendila velocemente! Vediamo cosa! Cos'è? Cos'è? Che progete, amici! Che schifo, amici! Ho preso quello salato! Vuol dire che ho l'aglio! Amici, dov'ho trovato il senso perché busserà lui! Amici, oggi è il mio giorno! Mi mangio il pancake! Sììì! Avviva! Vuoi fare compie con me? Guarda, Maria, no! Non ci sarò più in mezzo! Sì, guarda! Non ci sarò più in mezzo! E anche il pancake! Ecco perché lo mangerò! Bene, cominciamo, amici! Prendi il tuo aceto, Maria! Non essere gelosa! Va bene, amici! Io inizierò a mangiare la mia delizia! Dai, proviamo com'è questo piatto! Eh, Cris, come fai a mangiare così? Mangia così! Ha preso il mio pancake! Ma che cosa stiamo facendo? Gridiamo! Ma è così facile! È così che mangiano i veri uomini! Cavolo, amico! Comunque, va bene! Continuerò ad andare avanti! Mmm! Che buono, amici! È delizioso! Stas, tu stai senza vergogna, alla fine! Dai, tutto quello che sapete fare è piagnucolare! È meglio! Sì, sì! Spucisce l'aglio! Dai, forza! Il mio aglio è pronto! È pronto, amici! Guardatelo! Come si mangia l'aglio! Andiamo un'occhiata, dai! Vedi a spucciarlo! Oh, c'è dell'altro! Va bene, bevi il tuo! Sì! Ragazza, provateci mai! Siamo diventati a fare questo! Amici, mai, 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 mai nemmeno provarci! È pericoloso! Va bene, te proverò un po', non provare della consiglia! Provalo! È buono! L'ha spuntato! Non abbiamo avuto nemmeno una goccia, eh! Quindi Maria sta ricevendo la ciapalà! È meglio prendere la ciapalà anche questo! Giusto, che è schifo! Mai, puoi mai provare questo! E ora è il mio turno, amici! Mangerò l'aglio! Ha un odore forte! Siamo pronti? È qui da molto tempo! Guarda, guarda! È buono, sì! Maria, è salato e amaro allo stesso tempo, insomma! Devi mangiare l'aglio, avrai anche tu lo sciapalà! L'aglio è salato e amaro allo stesso tempo! Vai, lo sporgato un raso! Non mangiare di più! Dai, dai, dai! Che schifo! Amici, guardate i miei occhi! Cominciano! Maria, sei pronta? Ok, dai, su, che ci sia! Andiamo! Un'ulteriore punizione per Maria! Sì, guardate i miei occhi! Terribile! Che terribile! Losers! Quarto round, amici! Siete pronte? Sì, sempre pronti! Sendete la carta che volete, andiamo! Andiamo un'occhiata! È salato! Salato! Il mio è dolce! Il mio è aspro, anche se lo tengo capovolto! Va bene così, l'importante è quello che c'è dentro, ragazzi, perché non sappiamo cosa c'è dentro, capite? Apriamo uno per uno questa volta! Ragazzi, sì, andiamo uno alla volta! Da questo, sì! Iniziamo da qui! Uno, due, tre! Oh, gelato! È di Maria! È il tuo! Ah no, è per me! E ora, ecco questo! È il mio, amici, così è finito! Oh, so pollo, sì! Oh, amici, mi chiedo cosa avrò io, sono davvero preoccupata! Aspetta, apre lo stasso! Gelatine! Le gelatine più acide del mondo! Terribile! Oh, non so più le gelatine acide! A me piacciono, amici, non ti vedo niente di quale chiede su quest'avola! Bene, amici, iniziamo da me, sto per mangiare le gelatine più acide del mondo, assaggiamole! Ne metterò di più nel palmo della mano! Così tanto? Sì, che c'è? Me ne mancherò una alla volta! Sì? Ecco qua! Amici, sono molto aspre, ma sono anche molto buone! Non so come è possibile! Ragazzi, anche a me piace l'aspro, le prendo e le mangio! Ehi! Ehi, come stai facendo? Quelle sono le mie gelatine! Ehi, le ho mangiate tutte, lasciale! Oh! Maggia! Che loser! Stavrà che vorrete in giro le ragazze! Aha! Mangia, 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 mangia! Se dico una cosa, abbiamo imparato che i ragazzi sono più propensi a fare del male alle ragazze! Siamo bravi, amici! Ragazzi vincono! E il nostro canale è più iscritti maschi che femmine! Ragazzi, ma siamo ragazzi! Iscrivetevi! Mostriamo loro che siamo una squadra forte e superiamo i ragazzi! Iscrivetevi anche a me, ragazzi! Ora ragazze ci supereranno! Dobbiamo essere in vantaggio! Va bene? Vai, suonchiamo! Grazie! Ora tocca a me, amici! Delizioso, delizioso! Anch'io voglio il gelato! Oh, cavolo! Dai, suonchiamo a mettere il mio augurio! Però quale che ci vuole! È delizioso! Sapre come ti piace! Amici, iniziamo il prossimo round! Ultimo round, amici! Prima, vediamo cosa c'è dentro! Oppure... No, no! Scegliamo prima le carte! Prima le carte! Forse, girate in una infratta! Dolci, amici, che bello! Io avrò qualcosa di salato! Allora, siete pronti, amici? Sempre pronta, Stas! Ora dobbiamo aprire e vedere... Andiamo! Cosa c'è dentro! Due, tre! Patatine! Sì! Ragazzi, qui è tutto buono, da come lo vedo, eh! Sì, soprattutto la tua torta è la più deliziosa! Queste patatine sono sia acide che piccanti! Lo so, lo sono stata dentro queste patatine! Mi piacerebbe provarle, ma soprattutto vorrei provare questa deliziosa torta! Sì, stas, siamo molto fortunati! È deliziosa! Hai già iniziato? Ma cosa vogliamo fare? Dai, dai, mangia, 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 mangia! Non so, ma che cosa cos'è? Mangia, ti dico! Mangia, forza! Ah, così mi caldi! Ok, mangiare una e basta! Brava! Ora tu... Va bene, hai preso qualcosa di facile, facile! Sì, popcorn, bello! Me l'ha rubato di nascosto, anche se ha la torta! Mmm, buono! Ok, inizio a mangiare la mia torta! Coltello! Nella bocca! Facile! Vai! Testa qui! Non ho la torta, stas! Mangia, mangia! Dove state andando? Dove state andando? Dove siete scappato? Dai, se mangia! Ragazzi, Maria è molto arrabbiata oggi! Ehi, occhi! Dai fuori di qui! Amici, questo era il nostro video! Se vi è piaciuto mettete like! Iscrivetevi! Premete la campanella! E ci vediamo!